E' stata una figura fondamentale, ha influenzato la filosofia, persino l'arte e il cinema, Carl Gustav Jung, il secondo pilastro, almeno in ordine cronologico, dopo Freud, nella costruzione della disciplina psicoanalitica. In La Versione di Carl, Andrea Pamparana, ce lo racconta da giornalista in una biografia romanzata. Sì, io ho cercato da giornalista, da cronista, di raccontare la storia di un uomo soprattutto, di un grande psichiatra, del fondatore della psiconologia analitica, di colui che si differenziò da quella che era la scuola tradizionale, quella freudiana viennese, ma che è stato anche un uomo con le sue passioni, i suoi difetti e le sue visioni, che in qualche caso erano visioni oniriche e che influenzeranno poi molta parte della cultura occidentale. Jung, nato in Svizzera nel 1800, viaggiò molto in Oriente e portò in Europa anche le suggestioni del pensiero orientale. Jung è stato uno degli artefici della scoperta, ad esempio, di alcuni degli aspetti fondamentali dello spiritualismo indiano. Jung è uno che a un certo punto, in un'intervista alla BBC, disse Io ho Kant, Emanuele Kant, Freud no, e questa è un po' la differenza fondamentale fra la psicologia analitica e la psicanalisi tradizionale.